e torniamo di qua magari chiudendo no andiamo di qua se non ci fa chiudere la porta certe volte lo fa no ce la fa chiudere ok tu resti qua vediamo se lo vediamo sembra di no bene nasconditi di qua e vediamo a vedere di qua non lo vediamo di qua e lui è qui lui è qui non penso che farà questo giro per vedere lui potrebbe uscire da qui comunque per tornare sotto qua c'è ancora la gente nemico stesa difficile da capire allora facciamo così no forse è meglio lasciare tutto con me vediamo su dove possiamo arrivare qui eh no lasciamo tutto con me ragazzi non so come muovermi passiamo il turno vediamo che fa ah scende sotto molto probabilmente di qua vediamo qualcuno no abbiamo preso i documenti di qua dove ci fa andare in questa zona ok qua c'è un armadietto però per adesso lo lascerei su passerei un altro turno e scende giù vediamo se ci scopre dove vai bene bene allora vediamo se possiamo colpire questa gente però mi sembra strano a lui è lì dottoressa portati se tu realmente pensi così ok muoviamo questi due magari lui scendiamo si andiamo di qua vediamo se ci vede qualche altra guardia lui e la gente sotto copertura non dovrebbero esserci altri agenti ma solo guardie ah qua la porta è chiusa dannazione qua c'è la telecamera allora sto prendendo un po' l'orientamento questo chi è? ah è lui ok lo lasceremo di qua poi spostiamo lui si andiamo a disattivare di nuovo le telecamere perché sennò di sotto sono bloccati sia di qua che di qua ok quindi uno e due non li possiamo spostare la porta è chiusa ma non ho il primaldello passiamo il turno non c'è più l'allerta quindi le gli agenti nemici sono finiti allora con lui disattiviamo qua torniamo indietro con loro ci possiamo finalmente spostare qua c'è qualcuno andiamo a vedere chi è per sicurezza no un dottore ok lei può andare tranquillamente di qua e mi ho bloccato il passaggio va bene lui può andare di qua e questi altri due agenti dove sono? fuori su non ci sono e non riesco a vivere comunque vecchiamoci tutti gli oggetti però adesso di qua non possiamo andare andiamo di qua ok prendiamo questo oggetto magari andiamo di qua ci ritroviamo qua sotto quindi questa zona è da guardare e tra l'altro qui ci sono gli altri telecamere bene allora andiamo con l'agente infiltrato magari che facciamo lui lo no aspettiamo che scompaia lui lo portiamo di qua dottore stigli dottore oh qua non siamo più in zona rossa quindi lì mi dici no siamo ancora in zona rossa non siamo ancora in zona rossa Passiamo il turno. Qua c'è una telecamera e un attaccapanna. Ah, ma io da qua sono venuto, va bene. Andiamo di qua. Allora, un agente sicuramente sarà di qua. Possiamo spegnere le telecamere. L'altro agente è dove saranno tutti e due di qua. Loro di non muovere, di lui aspettare. Lui facciamo... Ah, non lo beve. E poi ci segnala pure altri oggetti. Almeno uno. Uno... no, due documenti e bottino uno. Wow. Non saprei. Allora... L'infiltrato sarebbe lui. L'abbiamo già spezzato. Ok, passiamo il turno. Andiamo di qua. Ah, c'è un documento. Ci sono due guardie. Vediamo che movimento fanno. Una resta lì. E l'altra sembra che resta lì. Vediamo la porta. Tu resti lì. Tu magari puoi scendere? No. Però puoi andare avvicinare la scala, ok? Mi chiedo dove sia quest'altra cassa. Dobbiamo esplorare bene tutta una mappa. Qua c'è la mappa. E qua c'è lì. Qua c'è lì. Qua c'è lì. E qua c'è la zona rossa. Io altre casse non le vedo. La lavatrice, vero? Beh, mandiamola di qua, mandiamola di qua, e passiamo. Ah, cosa posso fare per te? Sono tutti ieri. Chi ci dai da... Colpisci lui, sono gli ultimi tuoi guardi, abbiamo finito. Tu puoi arrivare fin l'inizio. Colpisci lui. Lui lo muoviamo dopo. Qua facciamo sparire questo corpo. Si possono schifare queste animazioni, magari. Ti muovi verso lì qua. Tu fai sparire qualcuno, magari. Lui no. Lui. Tu fai felice. E dove stanno gli altri oggetti? Forse di qua non abbiamo visto Ma c'era la lavatrice E vabbè ragazzi pazienza non è che posso fare tutto Allora tu scendi dalle stelle vai qui Con lui non possiamo andare qui Ma abbiamo fatto sparire ora il corpo si Con lui lo possiamo spostare Perché è lui no? Un bug Ok Ma ormai è completata la missione Facciamo avvicinare un altro po' all'evacuazione Vediamo se il cazzo ce lo fa spostare Adesso si Adesso si What's up motherfucker? Allora con il dottore E' inutile andare di qua Vabbè E ci provo Comunque cominciamo a chiamare Evac inbound Iscita di qua Inoltre il turno dovremmo arrivarci I was just thinking about you Melkyi hinoa ingieto ma vabbè tu vai di qua puoi andare di qua molto bene ti esposti di qua e poi di qua c'è un civile ma sembra non muoversi tu vai di qua c'è la musichina non so se la sentite non l'ho messa io di sottofondo ma non so sarà un camion dei detersivi ok è passato il camioncino no dove vai infatti gli apparacci vuoi ok spostiamo lui di qua è nella nostra area di estrazione quindi può darsi che viene a farsi un giro questa può darsi che si sposta andiamo lui di qua tu che cosa farai? andiamo lui di qua lui di qua lei di qua o manca l'ultimo? si schifiamo allora manca lui vediamo se ci arriva si ok mission complete skipiamo ragazzi ci ha dato tutti questi oggetti bene sembra che nessuno cioè tutti hanno fatto esperienza più o meno ma nessuno è passato di livello però per sicurezza controlliamo allora vediamo se possiamo fare vediamo se ci sono usciti nuovi documenti innanzitutto no allora vediamo ah c'è un'altra missione qui ricognizione del nemico ricognizione tattica ah e devo rimandare gli agenti qui da covo del bofal qui che abbiamo a washington lapide allora da bofal chi mandiamo? bofal allora uno due e tre ok in viaggio è da washington qui che abbiamo spirito e mandiamolo qui spirito spirito è naso blu e dobbiamo fare per forza questa missione volevo fare la missione principale ma va bene eccoci qua mettiamo a caso questa sì ok partiamo da qui sì iscriviti iscriviti are you iscriviti 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 istituzionale voce Due agenti, va bene Questa missione o la farò da solo O comunque Ve la porterò E non è una missione semplice L'agente nemica è qua ma sarà circondato da guardie Potremmo attirarla altrove No Però ci sono le telecamere Dovremmo aggirare di qua magari Le telecamere cosa prendono Di questa entrata Ma non è rossa Quindi potremmo mandare qualcuno di qua Sì E uno di qua Ma la porta è chiusa Quindi per forza di qua dobbiamo entrare Bene ragazzi se l'episodio vi è piaciuto Mi invito a lasciare un like A commentare, a condividere e a iscrivervi Se non l'avete già fatto Un saluto da Philips89 alla prossima Ciao